Complimenti mister, vediamo se è d'accordo con il suo giocatore, con Politano che ha detto non ci hanno mai messo in difficoltà, anzi giocavano con 5 dei difensori e ci hanno anche lasciato un po' i tiri da fuori. Sì, creavano una buona densità in mezzo e gli esterni coprivano bene perché conosco Angelo che l'ho allenato e ho fatto molto bene per cui sapevamo che non era facile però ci siamo mossi bene senza palla abbiamo fatto un po' frasseggio partendo anche da dietro e cercando di creare superiorità numerica negli altri settori. Il primo tempo soprattutto è stato molto bello, abbiamo concesso poco agli avversari nel secondo tempo è chiaro dopo che si è riaperta la partita c'è stata un po' di pressione da parte del Siena abbiamo avuto la fortuna di andare sul 3-1, abbiamo gestito meglio con tutta serenità il resto della partita è chiaro c'è stato un momento che il Siena ci ha attaccato con diversi attaccanti, ha cambiato qualche uomo ha messo qualche uomo più offensivo e un po' di sofferenza c'è stata ma non mi sembra che abbiano creato tante opportunità quindi significa che la squadra si è difesa con un certo ordine. Ha inciso mister anche la vostra voglia di tornare alla vittoria, una settimana non semplice, il silenzio stampa martedì questo brutto apprentesi della Spezia con la Spezia, ha inciso anche la voglia di tornare alla vittoria di Soma? Sì, sabato scorso abbiamo fatto una buona gara col Carpi e la partita di la Spezia ci ha dato un po' di rabbia in più perché non l'abbiamo fatta in pratica per tutto quello che è successo e quindi i ragazzi hanno avuto una buona reazione siamo stati una settimana in ritiro, cinque giorni, insomma avevamo la voglia di portare a casa qualcosa questi sacrifici che hanno fatto stando magari distanti dai loro familiari ci ha spronato a tornare a casa con qualcosa di importante. Viste siete una delle squadre più in forma sicuramente della Serie B, ci pensa a questo punto perlomeno nelle prime otto posizioni ma sogna addirittura di poter arrivare fra le prime due? Io non sono abituato a vivere la giornata, come abbiamo fatto finora, come abbiamo superato momenti di difficoltà e continuiamo a fare come stiamo facendo, adesso abbiamo una partita veramente difficile il derby con Lanciano che è molto sentito, contro una squadra che sta facendo bene anche oggi l'ha dimostrato che ha fermato il Palermo, quindi si aspetta una gara durissima e la nostra concentrazione va a quella partita soltanto. Le battute su Andrea Rossi, il ragazzo sta rispondendo bene? Sì, sono molto soddisfatto delle sue prestazioni. Grazie. Grazie al Miss Gol, un gol importante, una vittoria rotonda per il Pescara a Siena. Sicuramente era una partita molto difficile, però penso che l'abbiamo vinta meritatamente perché non ci hanno mai messo in difficoltà, ne abbiamo preparato benissimo questa partita tatticamente e siamo stati molto compatti e bravi a ripartire in contropiede. Matteo, credi che abbia inciso un po' la voglia e la grinta vostra perché è stata una settimana difficile a differenza di quella del Siena, entrambi avete giocato in Coppa Italia, il Siena è passato, voi no e il silenzio stampa, la voglia di tornare alla vittoria, credo l'abbia inciso anche nell'approccio della gara. Sì, assolutamente sì, siamo partiti molto forti, molto aggressivi, abbiamo fatto la partita che dobbiamo fare perché il Siena è una delle squadre più forti della Serie B. Hai detto che non ci hanno mai messo in difficoltà, chiaramente aspettavate un Siena diverso. Il Siena ha fatto la sua partita e noi siamo comunque stati molto molto bravi a chiudergli tutti gli spazi perché loro hanno giocatori di molte qualità come Rosina, D'Agostino, però il merito è anche nostro che li abbiamo messi in difficoltà senza fargli trovare mai i spazi che volevano loro. Superate le difficoltà, è un Pescara che punta la Serie A decisamente, non si può più nascondere. Noi pensiamo a partita dopo partita, non facciamo pronostici, pensiamo solo a partita dopo partita. Il fatto che il Siena abbia subito nella prima parte del campionato e anche adesso tanti gol da fuori aria vi porta a credere nel tiro da fuori, a cercarlo, a provarci sempre? No, ma noi ogni partita penso che qualche tiro da fuori lo facciamo. Oggi loro giocavano con una difesa a cinque, quindi erano molto bassi, quindi chiudevano molti bene i spazi e quindi ci lasciavano il tiro magari da fuori aria. Ultima battuta è sulla soddisfazione che praticamente hai portato al posto a titolo a Mascara, no? Questa è una bella soddisfazione per un ragazzo giovane come te e con giocatori importanti che sono rimasti a sedere in panchina. Sì, assolutamente sì, sono molto molto contento di come ho iniziato questa nuova avventura più a Pescara. Sono anche molto contento comunque il mister, mi ha dato fiducia anche comunque vedendo i giocatori che ci sono. Quindi sono molto contento e spero di continuare così. Complimenti tanto, grazie.